Non la guardi. Alfonso, tranquillo, ne abbiamo parlato. Non guardi la foto. Quale foto? Questa? Non ne ha alcun diritto. Non guardi la foto, non la tocchi! Sì, sì, non fare così! Si azzardi a toccarmi! Non la tocchi! Si azzardi a toccarmi! Si azzardi a toccarmi! Ehi, si dia una calmata, signor Basterra, o saremo costretti ad arrestarla. Basta così. Andiamo a prendere un po' d'aria.